Ma mi spiegate che cazzo sta succedendo in questa giornata di Serie A? Cioè, sta partita è stato un qualcosa di assurdo, assurdo. Parliamo di Sassuolo Fiorentina, al momento 3-2 hanno dato 7 minuti di recupero, ma quello che me preoccupa è che sto iniziando un video verso la fine della partita e ci sono due spulsi, vi ricorda qualcosa? Ciao, bella a tutti da me. Siamo tornati con questo nuovo video, scoccato adesso in 94, quindi mancano 3 minuti di recupero, ma è stata una partita incredibile in cui è successo tutto e il contrario di tutto. Sassuolo che per buoni 70-75 minuti ha fatto praticamente la partita, è passato in vantaggio. Io sono andato un attimo della Pichà, 10 minuti mi sono perso perché sono andato al bagno, sono andato un attimo della Rivengote qua, da 1-0 per il Sassuolo, addirittura erano andati a 3-1, un qualcosa di esagerato, ma poi non solo, perché Diuricic commette un'ingenuità, si fa espellere e la Fiorentina che addirittura riesce a fare il gol del 3-2. Siamo arrivati al punto che però c'è stato un fallo tattico da parte di Veretù, Milenkovic sbrocca e per ingenuità, che cosa fa? Si fa espellere anche lui. Quindi attualmente uno è spulso per parte e Sassuolo in vantaggio 3-2 sulla Fiorentina. Dovesse finire così, io faccio i miei complimenti al Sassuolo perché sarebbe una vittoria importante in ottica addirittura Europa League, perché scavalcherebbe la Roma 23 punti e sarebbe proprio in piena zona Europa League. Che è successo? Stanno smadonnando, stanno lanciando palloni un po' a cazzo di cane e la connessione mi salta, a me mi fa un cazzasta, mi fa girapopo, cazzo sta cosa, è più forte perché cazzo devi saltare, mi devi dire ogni volta, aspettate eh. Ecco. Siamo ancora 3-2 ragazzi, manca un minuto e mezzo, la Fiorentina ovviamente c'è prova, poi è uscita fuori comunque eh, ma per buoni 70 minuti secondo me il Sassuolo meritava assolutamente la vittoria. Qualcosina poi la Fiorentina ha fatto a cominciare. Io vi dico solo che mi si è staccato il video nel momento in cui la Fiorentina ha fatto il gol, quindi chi l'ha fatto sto cazzo di 3-3? È incredibile, ora cercherò di attaccare i video ragazzi perché non vi sto apprendendo per il culo, stavo registrando e a un certo punto mi si è staccata, non lo so come, forse ho schiacciato io qualcosa, ha fatto stacche, vaffanculo che a me si stacca ogni volta. Ragazzi la Fiorentina, come stavo dicendo, proprio all'inizio del video è riuscita ad agguantare, tanto lo sapevo, me lo sentivo, ero sicuro al 100%, una partita assurda, addirittura 3-3 e vi ripeto, secondo me la Fiorentina non meritava di vincere, alla fine tre gol li ha fatti per carità, ma comunque il Sassuolo secondo me ha fatto di più, eccolo qua è finita la partita, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, non so come è finito l'altro video perché mi si è staccato, quindi adesso ve li attacco, vediamo quello che succederà, ma che cazzo sta a succedere a sto calcio? A noi ci va pure bene i tifosi della Roma perché il Sassuolo ci avrebbe scavarcato, ciao!